Proclamato al Comune di Modica lo stato di agitazione del personale part-time a 35 ore da ieri e fino a data da destinarsi, sarà decisa un'astenzione del lavoro del personale, ove la commissaria straordinaria non convocherà una riunione per un confronto di merito, peraltro già da tempo richiesto. E quanto comunica il segretario generale dell'FPCGL di Ragusa, Nunzio Fernandez e Salvatore Terranova della Camera del Lavoro di Modica, La decisione trova le sue motivazioni nel fatto che il sindacato ha più volte compulsato la commissaria straordinaria affinché procedesse alla integrazione oraria per il personale stabilizzato a 35 ore, in atto indispensabile sia per esigenze di servizio in tutti gli uffici e si è dovuto prendere atto della mancata responsabilità del commissario alle richieste dell'organizzazione sindacale. Secondo l'FPCGL esistono già in atto le condizioni per poter programmare la trasformazione da part-time a full-time del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere, in quanto l'ente comune oggi a seguito dei pensionamenti avvenuti e di quelli che avverranno nei prossimi mesi non è più nelle condizioni di garantire importanti servizi di natura pubblica. Sempre la CGL, qualche giorno fa, aveva anche annunciato lo stato di agitazione dell'SPM partecipata sempre del comune di Modica con una giornata di astensione dal lavoro per sciopero del personale dipendente SPM per venerdì 10 febbraio. Alla base della protesta, il mancato pagamento degli stipendi arretrati ai dipendenti e il ritardo accumulato ad oggi per il trasferimento degli stessi alle due nuove società appositamente costituite dal comune di Modica, nonostante più volte sollecitato, il commissario straordinario del comune di Modica non ha proceduto, anche in questo caso si legge nella nota firmata sempre da Fernandez e Terra Nova così come stabilita in precedenza alla convocazione delle rappresentanze sindacali e non ha neanche fornito entro il 30 settembre scorso come concordato alle organizzazioni sindacali i dati relativi alla proiezione economica in ordine alla tipologia contrattuale da adottare a seguito del previsto trasferimento dei dipendenti interessati.